Ovviamente non mi posso dare, ma non mi posso dare, ci sei un momento, ma però tutto questo è il massimo, non deve fare anche la sua, eh, mi dà solo una vita. Cosa mi dici? O sì o no? No, attraverso, questa sera il plasma, quello là da 1200, ma certo, ve lo dico prima, mica ci giochiamo le patatine, qua il tuo corre, se ne sbagliate, ma signorina dice, ma lei è un bel bastardo però, signorina, diciamo qua, c'è un danzato che ti ha fatto, non ci sei poi qua su e perdono il mio amico, non ci sei poi qua su e perdono il mio amico. Ok.